Fratelli d'Italia Abruzzo ufficializza le liste dei propri candidati. Il partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni, come annunciato durante i congressi provinciali, lancia la sfida per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio, afferma il senatore e segretario regionale Fratelli d'Italia e Telvardo Sigismondi, e di grande competenza amministrativa. Molti di loro, aggiunge il segretario, hanno già esperienze elettive, come i consiglieri regionali uscenti, ai quali si uniscono esponenti espressione della società civile. Fieri del lavoro svolto nella costruzione della lista, commenta abbiamo composto un'importante squadra che affiancherà la candidatura del presidente Marco Marsiglio. In questi anni conclude sono stati conseguiti i rilevanti risultati dal governo regionale grazie ad un'azione incisiva che riteniamo fondamentale per la crescita dell'Abruzzo far proseguire per il prossimo quinquennio. Per la provincia di Chieti ci sono Paolo Bomba, Nicola Campitelli, Carla Di Biase, Tiziana Magnacca, Francesco Prospero, Antonio Ottavani, Franco Vanni, Carla Zinni. Nell'Aquilano invece i candidati sono Antonella Buffone, Tiziana Del Beato, Alessandro Piccinini, Mario Quaglieri, Maria Assunta Rossi, Vincenzo Uzeo, Massimo Verrecchia. Per la provincia di Pescara correranno per le regionali Deborah Comardi, Pasquale Cordoma, Alfredo Cremonese, Leonardo D'Addazio, Luca De Renzis, Manuela Di Fiore e Lucia Travaglini. E infine nella provincia di Teramo ci sono Marco Cipolletti, Laura D'Ambrosio, Umberto D'Annuntis, Diego Di Buonaventura, Emanuela Di Francesco, Paolo Gatti e Marilena Rossi.